Ex tribunale di Piazzadda in una situazione indecente, ricettacolo di immondizie, di rifiuti eppure nel pieno centro cittadino, e sembra che non si voglia fare nulla? Questo è uno dei tanti problemi della città, sicuramente il fatto che sia di proprietà privata è un ostacolo per l'attività dell'amministrazione, però è anche vero che la proprietà privata ha anche degli aspetti sociali che devono essere guardati e devono essere guardati dall'amministrazione. Bisognerà imporre al privato di fare quelle opere che sono necessarie affinché quantomeno la salute pubblica e il decoro urbano vengano tutelati. Poi so che vi è un contenzioso di tantissimi anni con il privato, ma sicuramente dovrebbe essere guardato con maggiore attenzione e comunque al privato dovrebbero essere imposti degli obblighi perché non si può lasciare in pieno centro cittadino uno scempio di questa evidenza e di questa natura. La precedente amministrazione si era discusso di fornire come parcheggio per i dipendenti pubblici l'area prospicente al tribunale, dopodiché non se ne fece più nulla? Guardi, questa era una soluzione minimale, era il minimo sindacale realmente. Il problema non è solamente del parcheggio che comunque è un'idea significativa e che potrebbe anche snellire un problema che in quella zona è particolarmente avvertito. Il problema è rifunzionalizzare quell'area, rifunzionalizzarla in modo da garantire il decoro cittadino e da garantire anche un'attività che possa dare respiro economico alla città. Grazie.